un bel filmatino per finire in bellezza ci volevo a fine dell'anno scusa il Vito, il zio Seve, il Tonino si lo sappiamo sei un comunista non ti che fai i versi la Ele che non c'entra ma c'entra c'entra te ormai c'entri per forza sei anche centrato spesso Stefanino spero che stia bello per un po' di... no spero che nevichi mi piace di più Paolo poca fatica tanto mangiare no hai fatto fatica Giula ma parli sempre e guardi sempre guardo sempre il Renzo oggi ha dato di bestia l'angelo ha fatto finta ha rotto la cosa apposta lui giorno 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 si ha registrato tutto come sempre giusto? giusto? ci sono anche i tuoi di video il Pietro guarda qui dove è il piatto? il Pietro senza piatto immaginato anche quello oh ma sei sempre dietro con queste storie dai ma non è possibile dai ma stampi cioè ma non si può portare in giro uno così tutte le volte digli digli qualcosa 10 euro 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 e per ultimo Sandro ah però eh si eh cosa hai da fare? ciupaciupo aprire il gelato ciupaciupo ciupaciupo flashato bel boccismo ti faremo un bel tatuaggio qua no no un bel filmatino eh noi siamo fatto uno guarda che quello per finire in bellezza ci volevo a fine dell'anno scusa eh il Vito il zio Seve il Tonino si lo sappiamo sei un comunista non ti che fai i versi si si la ele che non c'entra ma c'entra 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 te ormai c'entri per forza sei anche centrato spesso Stefanino spero che stia bello per un po' di no spero che nevichi mi piace di più ma il Paolo poca fatica tanto mangiare no hai fatto fatica Giula ma parli sempre e guardi sempre guardo sempre il Renzo oggi ha dato di bestia di bestia l'angelo ha fatto finta ha rotto la cosa apposta lui giorno 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 si ha registrato tutto ciao Presidente come sempre giusto giusto ci sono anche i tuoi di video eh il Pietro guarda qui dove è il piatto il Pietro senza piatto poi hai mangiato anche quello oh ma sei sempre dietro con queste storie eh dai ma non è possibile dai ma stampi cioè ma non si può portare in giro uno così tutte le volte eh digli digli qualcosa digli e per ultimo Sandro ah però eh sì eh non è possibile così